Ciao a tutti! Ancora prima di presentarmi, nel senso che sono nuova appena arrivata, volevo subito iniziare parlandovi di alcuni prodotti, come vedete, che alcuni ho comprato all'Inns e questi qua me li ha regalati in memoroso, quindi non posso dirvi il prezzo. Però volevo dirvi che c'è una linea tutta bio che comprende anche l'olio di oliva, l'unica cosa che l'olio di oliva non mi piace perché contiene le olive dell'Unione Europea, non solo italiane, ecco però comunque è di origine bio per chi vuole, è interessato. Manca il dentifricio che ho acquistato per 1,49 euro, sempre bio, però devo ancora provarlo e al momento qua non ce l'ho. Vi dico subito cosa ho comprato, allora ho preso i fusilli, sono integrali, costano 75 centesimi, li ho messi in questo contenitore ma il pacco è normale e ci sono anche spaghetti e mezze penne. Ho comprato la passata di pomodoro bio, come vedete la sto già usando, gli ingredienti semplicemente sono pomodoro bio e sale, quindi non contiene nessun conservante, nessun tipo di acido acidificante, eccetera eccetera, e costa semplicemente 69 centesimi di 500 grammi, io una volta usavo quello del natura sì, che è un barattolone un po' più grande, costa un euro e qualcosa, adesso non mi ricordo, però voglio dire, se si può risparmiare, se si può avere sempre un prodotto buono e bio, perché no? È un pochino acidulo volevo dirvi, però ho fatto adesso la pasta con il formaggio e mescolato così non ve ne accorgete neanche, in caso aggiungete un pizzichino di zucchero, ma secondo me non c'è neanche bisogno, poi ho comprato il succo di frutta, sono i soliti bricchietti nella confezione, c'era il gusto, scusate, pesca, oppure pera, però sono un po' intollerante alla pera, quindi ho preferito la pesca, contiene il 50% di purea e zucchero di canna, e so che magari i succhi di frutta non sono il massimo, però vado al lavoro presto e quando scendo le scale uno di questo e uno di questo e ho già fatto colazione, e questi qua costano un euro e zero nove, poi queste sono le tortine che vi dicevo, ci sono un sacco di tortine, il problema è che tutte le altre hanno l'olio di palma, mio compagno ha comprato queste qua, che sono le tortine con carote e mandorle, sono della linea light, anche perché contengono il 90% di zuccheri in meno, queste non hanno olio di palma, contengono olio di girasole, quando ve lo metterà a fuoco, proviamo a vedere se ce la facciamo, c'è una luce pessima, però piove, un po' c'è il sole, non si capisce, eccolo lì, olio di girasole, e poi ci sono anche queste qua, che sono i tortini al farro di limone biologici, che li ho assaggiati, non li ho aperti, ma li ho assaggiati da lui, sono molto buoni, anche queste qua, ecco le carote comunque, sono veramente buone, e sanno proprio da carota, devo dire, non sanno da alcol o da robe varie, delle solite merendine, diciamo, e anche queste qua hanno l'olio di girasole, quindi niente di olio di palma, purtroppo non posso dirvi i prezzi, ma non è una cosa molto economica, voglio dire, ecco, e basta, questo è tutto, io penso di avervi detto tutto, ah no, scusate, mi sono dimenticata che ho comprato anche gli hamburger vegetali, vegetali, vabbè, gli hamburger vegetariani, vegetariani, gli hamburger con le verdure, mi ingrippo, gli hamburger con le verdure, ottimi, si scaldano in padella 3 minuti per lato, e costano, ci sono quelli grandi, da 1,99, vabbè, e anche quelli piccoli che costano uguale, solo che quelli grandi sono al pomodoro, quelli piccoli sono carote e altre cose, insomma, ci sono solo questi due gusti qua, nel senso, perché dopo c'è anche il tofu, non ci sono molti gusti, però vale molto la pena, perché è una cosa veloce, e avete già la cena pronta, non hanno, anche lì non c'è olio di palma, non c'è niente, è proprio a base di verdura, e basta, questo è tutto, questo è tutto il mio bottino, vi saluto, ciao! se volete sapere qualcos'altro, fatemelo sapere giù nei commenti, che se posso vi rispondo, ciao ciao!